buongiorno vi presento il progetto pillole orientarsi nella musica si tratta di una serie di lezioni sulla metodologia della lettura relativa rivolte a tutti a chi vuole avvicinarsi personalmente allo studio a persone che appartengono a gruppi amatoriali a cori ad esempio perché non ha tutto il coro a persone che professionalmente vogliono capirne di più cosa si trova all'interno di queste pillole si trova un percorso completo di lettura musicale dall'inizio fino alle alterazioni e alle modulazioni si trova tutto un percorso di blocazione dell'orecchio e soprattutto la metodologia porta alla comprensione delle funzioni tonali quindi si fa anche un bel passo avanti nell'analisi musicali vi sarà spazio per dei piccoli approfondimenti storici vi è uno spazio web dedicato che aggiunge poco per volta giochi esercizi di lettura proposte di attività da fare nel gruppo da fare con la classe con questa metodologia che è molto antica l'obiettivo è quello di sentirsi dentro la musica io vivo la situazione tonale vivo le tensioni e le distensioni capisco quali sono le dinamiche del brano e questo mi avvicina forse anche a comprendere le dinamiche del coro dove va la musica che sto cantando e quindi per fare tutti insieme una musica migliore buon divertimento grazie a tutti grazie a tutti